Oggi desidero soffermarmi sul Salmo 26, che vi invito a leggere nella sua interezza e in particolare vi sottolineo questi passaggi. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore, spera nel Signore. Tornando a quanto dicevo ieri, circa l'angelo custode, le vicende della vita spesso rischiamo di volerle affrontare da soli, contando solo sui nostri mezzi, sulle nostre forze e confidando nei nostri metodi, che a volte non sono così delicati. Quando mi trovo a dover affrontare un problema, una crisi, quando devo compiere delle scelte, contemplo solo il mio volto? Sto lì a guardare solo me stesso, cercando in me la soluzione? Oppure so anche spostare lo sguardo verso il volto di Dio per scoprire che innanzitutto non sono solo in ciò che sto vivendo e poi per ricevere da Lui ispirazione, per ricevere quella luce per districarmi dentro quel problema. Spera nel Signore, sii forte, sii rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. A volte, in certe situazioni, non si sente dire questa frase, fatti coraggio, ma il coraggio non te lo fai da solo, come se fosse la pasta fatta in casa. Il coraggio non possiamo donarcelo da soli, ma abbiamo bisogno di chiederlo, e in particolare a Dio. E' vero, nel Salmo si dice, sii forte, ma questa frase è preceduta da spera nel Signore. La forza e il coraggio nascono dall'appoggiarci non solo su noi stessi, ma anche su Dio, che è un valido sostegno, un valido punto sul quale far leva per affrontare la vita nella sua complessità. Etimologicamente coraggio deriva da cuore, da cor. Il cuore a volte è smarrito, disorientato, è nel panico, nel caos, e può appoggiarsi solo ad un sostegno valido e robusto, e Dio certamente lo è. Se no, rischiamo di appoggiarci su noi stessi, sui nostri ragionamenti, o peggio, i nostri giri di testa, e questo ci manda in totale confusione, oltretutto con rischio di compiere anche delle scelte sbagliate. Buona giornata.